Radio Bruno Recente accordo da 50 milioni di euro per l'efficienza energetica, Cogeme Energia ha siglato una joint venture con il Fondo Europeo per l'efficienza energetica. La grande novità quindi sul tema energetico di Cogeme, ce la vuole raccontare? Oggi siamo dei produttori e degli operatori, produttori dal punto di vista dell'energia elettrica, perché possiamo contare già su parecchi megawatt di impianti di energia rinnovabile nostri collocati in Sicilia, Puglia e Veneto attualmente. Per quanto invece concerne il gas metano, siamo diventati operatori. Quando sono arrivato acquistavamo il metano da grossisti, oggi noi lo ritiriamo direttamente dalla Sdama, abbiamo acquisito quella qualifica di operatori, per cui in entrambi i casi, sia per l'energia elettrica, sia per il gas metano, siamo estremamente competitivi sul mercato, ancorché difficile perché è un mercato praticato da aziende molto aggressive. Nonostante ciò, il mio consiglio di amministrazione e la direzione di Cogeme Nuova Energia ha intravisto la possibilità di un forte ampliamento del parco clienti, visto le nostre caratteristiche societarie, visto anche i prezzi competitivi e le economie che riusciamo ad effettuare, dare un vantaggio a tutti gli abitanti dei comuni soci. Cosa significa? Significa che tutti gli abitanti dei comuni soci hanno un doppio beneficio. Primo perché possono usufruire di tariffe agevolate, scelte proprio come politica di remunerazione da parte della società stessa. Due perché qualora ci fosse, ed è ovvio che perché un'azienda per crescere deve avere delle marginalità, per finanziare i propri investimenti, per avere un ritorno, per crescere, qualora ci fosse una marginalità, questa marginalità diventa a sua volta un ulteriore sconto agli utenti residenti nei comuni soci. Perché? Perché Cogeme distribuisce dei dividendi, tutti gli anni Cogeme distribuisce negli ultimi anni circa 3 milioni di Euro. Lei tenga conto che 3 milioni di Euro vanno a sostenere la spesa corrente dei comuni soci. Vuol dire che se a un certo momento io, utente, do la possibilità a Cogeme di guadagnare 100 Euro e sono un residente per esempio nel comune di Rovato o Cazzago o così via, in proporzione di quei 100 Euro lì, io traggo un altro beneficio perché 20 Euro vanno a Rovato, 10 a Cazzago, Rovato è il doppio degli abitanti quasi di Cazzago, per cui la stessa stregua, anche perché, parentesi, ogni cittadino residente nei comuni soci fondatori possiede, compreso i neonati, possiede circa 2 mila Euro di capitale di Cogeme S.p.A. Cogeme S.p.A. è una società del territorio di proprietà della gente che risiede nei comuni soci, per cui è la nostra società, ecco l'attenzione da parte nostra nei confronti degli utenti. Comunque ritornando al nostro argomento principale, il cittadino ha convenienza perché qualora ci fosse degli utili, questi utili sarebbero un ulteriore sconto perché il comune può utilizzare la sua percentuale di dividendo per sostenere la spesa corrente, cioè la spesa per gli anziani, la spesa per l'istruzione e così via, per cui avrebbe un doppio vantaggio, uno sconto perché le tariffe sono agevolate per i cittadini e i comuni soci, in più i benefici come ricaduta degli utili che la società è riuscita a marginare durante l'anno. Quando sono arrivato ho voluto potenziare la situazione di Cogeme Nuove Energie, tanto è vero che oggi stiamo diventando una società molto importante, una delle più importanti del territorio sicuramente bresciano. Dopo A2A ci siamo noi e oltretutto noi siamo l'unica società totalmente a partecipazione pubblica.